Si sta parlando molto di lei e sicuramente sapete bene che c'è qualche motivo particolare, no? Allora, Vilma Goic, sì, la cantante è nota per il brano Le colline sono un fiore, parlo proprio di lei. Nei giorni scorsi si è fatta notare per un episodio che non è sfuggito all'occhio attento dei social, che sono molto attenti. Infatti, rivolgendosi a Carolina Marconi e Patrizia Rossetti, ha detto Eh, per domani dovremmo metterci d'accordo sulle nomination da fare. Dai, su, tappatevi il microfono. Sì, dai, accordiamoci anche per equilibrare la situazione. Insomma, ecco come si infrange due regole del regolamento che tutti conoscono e che sono cose che non si fanno. La donna, cercando quindi di coprire il microfono e mettendosi d'accordo su chi nominare, e già questo è totalmente sbagliato. Vilma, un genio proprio, fa sgamare che domani devono fare una cosa in puntata. È una cosa incredibile. Questo e tanti altri commenti su Twitter che si sono accorti che lei non si è accorta, ecco. Ma nelle ultime ore Vilma ha tirato fuori gli artigli, stavolta ha reagito. Sì, durante le accese discussioni con Antonella Fiordelisi, la cantante ha dimostrato di avere un carattere non proprio semplice. E anche mentre si scontravano Pamela Prati e Patrizia Rossetti, Vilma ha preferito andare a parlare con gli altri vipponi che erano in quel momento in giardino. Ora, ha confessato cosa gli avrebbero detto più che altro gli autori in confessionale, ovvero, fino ad oggi mi sono trattenuta su tutto. Ma domani si cambia, eh. Voi non mi conoscete bene, ma io fuori da qui sono una grande rompiballe, e di quelle grosse. Vilma ha proseguito il racconto e ha detto, anche in confessionale, ho detto che da qui in avanti mi esporrò su tutto, non mi terrò niente dentro di me. Pensate che loro in confessionale mi hanno detto, ah, tu che hai una carriera più lunga e grande degli altri ti lamenti meno. Ma vedrete adesso, ora si cambia, si cambia, quindi, però riparatevi che sparo tutto quel che penso e non mi ferma nessuno. Poi invece ha svelato un aneddoto sull'assegnazione della sua camera privata. Ha detto, la camera singola di Pamela? Non capisco. Io, alla mia età, avrei anche dormito con tutti voi. Prima di entrare ero totalmente convinta di dormire nella camera classica con gli altri, ma vi dico che mi hanno chiamato gli autori del programma, proprio per chiedermi se io avessi voluto una cameretta tutta mia. Io felicissimo ho detto, ok, grazie mille, adesso potete chiedermi di fare tutto. Però davvero non me lo immaginavo. E questo, signori miei, è stata tutta la sua dichiarazione su questo fatto qua. Allora, per ora non aggiungo altro, altrimenti sviliamo il discorso. Vi ringrazio per l'ascolto, noi ci sentiremo alla prossima e sempre su Pausa Caffè, su qualsiasi piattaforma voi volete, o YouTube o Facebook.